Uniba News, le notizie su Radio Uniba. Buon pomeriggio da Mediaterraneo News, in studio Antonio Solazzo. In apertura lo sciopero generale indetto per domani dai sindacati contro la manovra finanziaria. Il Tar ha respinto il ricorso contro la precettazione decisa dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, il servizio di Francesco Maria Grò. Il Tar ha rigettato il ricorso di alcuni sindacati contro la precettazione decisa dal vice premier Matteo Salvini, con la quale si riduce da 8 a 4 ore il tempo dello sciopero nazionale dei mezzi pubblici. I giudici si sono pronunciati sul ricorso di alcuni sindacati autonomi e non su quello presentato da CGL e Will, che hanno organizzato la protesta in tutti i settori pubblici e privati di 8 ore. Le fasce di garanzia nei trasporti sono previste prima delle 8 e 29 e tra le 12 e 30 e le 14 e 29. Francesco Maria Grò, Mediaterraneo News. Incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Intanto scintille in maggioranza tra Lega e Forza Italia. Daniela Primiceri. È stato al sapore di cordialità il pranzo di ieri al Quirinale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I due, dopo essere tornati dai rispettivi viaggi in Brasile e in Cina, hanno affrontato le recenti questioni di politica estera. Al centro dei colloqui la legge di bilancio in discussione alla Camera e la nascita della nuova Commissione europea con la nomina del ministro italiano, Raffaele Fitto, alla carica di vicepresidente esecutivo. Non si placano invece le polemiche all'interno della maggioranza di governo, dopo il voto contrario di Forza Italia alla proposta della Lega di ridurre il canone Rai. Daniela Primiceri, Mediaterraneo News. Guerra in Medio Oriente, Israele e Libano denunciano la violazione del Cestate il Fuoco, il servizio di Tina Rauci. Sembrano reggere il Cestate il Fuoco concordato tra Israele ed Hezbollah e Libano. Entrambe le parti si accusano a vicenda di aver violato la tregua. I libanesi sostengono che l'aviazione israeliana ha sferrato attacchi sul sud del Libano. I militari israeliani spiegano di aver agito per impedire che da alcune basi collocate al sud del Libano potessero essere lanciati missili a lunga gittata contro Israele. Tina Rauci, Mediaterraneo News. La Germania ha annunciato di aver proposto alla Nato di inviare missili Patriot in Polonia con l'obiettivo di aiutare a proteggere le linee di rifornimento di armi a Kiev. Per il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius, questo consentirà di respingere gli attacchi russi sulle zone strategiche ucraine. Cronaca, a Bologna questa mattina un camion dei rifiuti è investito e ucciso un ciclista. Secondo la ricostruzione, il mezzo ha travolto l'uomo trascinandolo per diversi metri sull'asfalto. Inutili i soccorsi. L'azienda ha espresso il suo cordoglio, previsto per le 18 il presidio di salve ciclisti sul luogo dell'incidente. Il Parlamento australiano ha approvato una legge che vieta i social ai minori di 16 anni, il servizio di Maria Antonietta Mastropasqua. In Australia niente più social per le under-16. Con un voto storico, il Parlamento ha approvato la legge promossa dal partito laburista del primo ministro Anthony Albanese. Ai giovani, con meno di 16 anni, è bandito l'accesso a X, TikTok, Instagram, Facebook. Dovranno essere le stesse piattaforme a dotarsi di sistemi per individuare e bloccare i minori di 16 anni. Chi non si adeguerà rischia sanzioni fino a 32 milioni di dollari. Il divieto non riguarda invece YouTube, a cui viene riconosciuto uno scopo educativo. Proteggere la salute mentale degli adolescenti, questa sarebbe la finalità della legge, la più severa mai adottata contro i social, che sta riscuotendo interesse anche in Italia. Maria Antonietta Mastropasqua, Mediaterraneo News. Al via il Black Friday, domani oltre il 70% degli italiani approfitterà degli sconti. Secondo le indagini, il mezzo d'acquisto preferito è il web, mentre solo una persona su dieci andrà nei negozi fisici. Cinema cresce l'attesa per E' Complita Unknown, il film biografico su Bob Dylan. Timotisha Lame interpreta l'artista, arrivato a New York dal Minnesota nel 1961 solo con una chitarra. Il film verrà proiettato in America il 25 dicembre, mentre in Italia uscirà il 23 gennaio. Calcio in Europa League da Lazio di Baroni ospita le 18.45 il Ludo Gore e scoll'incognita a Zaccagni. Alle 21 invece in Campo Tottenham e Roma, Ranieri dovrebbe ritrovare Di Barda al primo minuto. In Conference League, sempre alle 21, c'è Fiorentina Paphos. Palladino pensa al turnover. Ed era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con informazione di Mediaterreno News torna più tardi. Buon proseguimento di serata.